Ha fatto tappa a Trani la fiaccola della pace. La città ha colto la marcia internazionale Estafaita denominata Peace Run, che ha lo scopo di promuovere in tutto il mondo la pace, l'amicizia e l'armonia. I corridori arrivano da San Giovanni Rotondo ad accompagnare nell'ultimo tratto di marcia una delegazione della sezione locale dell'Unitalsi che ha partecipato attivamente all'evento. Suggestiva la presenza degli studenti delle scuole di Trani che hanno salutato festosamente i corridori con una bandiera tricolore. La simbolica consegna della fiaccola, della pace nelle mani del sindaco di Trani è avvenuta sul piazzale della cattedrale. Prima di ripartire alla volta di Matera, i corridori hanno incontrato gli studenti delle scuole Petronelli, Bovio, Palumbo ed Annunzio per un momento di incontro e riflessione. Il team di corridori internazionali è partito il 21 febbraio scorso da Lisbona e giungerà l'8 ottobre a Belgrado, dopo aver percorso 24.000 chilometri tra i 100 e i 120 al giorno. Simbolo dell'iniziativa è una fiaccola, la cui fiamma rappresenta metaforicamente l'ardore e l'entusiasmo che anima il cuore di ogni essere umano. Attraverso la consegna materiale del lume, infatti, la Peace Run intende creare un effetto domino di continua accensione di fiamme interiori, un incendio rassicurante, come hanno sottolineato gli stessi protagonisti, attraverso il quale non si sente isolato chi parteggi per gli ideali della pace, della comprensione e della fratellanza. Pace e anche politica di solidarietà, ha sottolineato il sindaco Gigi Riserbato. La timida pioggia non è riuscita neanche in parte a scalfire il clima di pace, ma il clima di festa, di gioia, che gli organizzatori di questa straordinaria manifestazione sono riusciti a portare qui a Trani in un pomeriggio di inizio primavera. Si è scelta Piazza Duomo, la piazza della cattedrale, la piazza nella quale i colori veramente sono straordinari e si è scelto un momento di coinvolgimento dell'intera cittadinanza. La scuola, le associazioni del terzo settore, l'associazione di volontariato, tutte qui presenti a festeggiare con gioia l'arrivo di questa fiaccola. Una fiaccola che gira da tantissimi anni per tutto il mondo. Abbiamo avuto anche il rettore della cattedrale che ci ha riservato un momento di toccante preghiera e tutti quanti siamo felicissimi di aver condiviso con loro un momento veramente di svago e di meritata spensieratezza.